e lui non si ricorda ma dice il coso del metano dove c'è il coso del metano devi girar dentro e il coso del metano Grazie a tutti 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 La tagliamo Saliamo via quella lì Ci va alla scuola Si a pare che quando è spostato parte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ma non ce n'è di pericolo qua Grazie a tutti Grazie a tutti Fatto prima